Ciao a tutti sono LelyRam e oggi c'è un evento non è vero allora ma me lo fai di me allora aspetta un attimo io voglio riservi un dubbio perché tutto quello che dico qua cioè al momento non è che me lo sto preparando quindi devo pensare ancora a questo vabbè brevemente ci sarà un contest vi farò vedere i premi ci sono due premi la gente che vuole partecipare deve iscriversi al canale e controllo porca se controllo chi non lo fa verrà ferito brutalmente e condividere il video e commentare sotto al questo video qua il nome del regalo che volete perché sono due e quindi il primo estratto potrà scegliere tra i due quale vuole il secondo prende quello che rimane ma tanto è carino quello il secondo perché l'ho fatto io amatemi e ovviamente dopo l'estrazione io creerò una mail fatta apposta per youtube e la lascio scritta sotto al video dove mi potrete mandare il vostro indirizzo di casa di nonna del canarino dove vi pare dove vi invio il regalo il regalo così massima che va vengo sotto a casa vostra e ve la brucio ma non vi preoccupate e ora vi faccio vedere i premi allora sono 8 bit quindi sono collane cioè quando lì ci fate quello che volete io metto solamente il cerchietto e voi decidete se fare una collana un braccialetto quello che volete allora un settimo di lol guarda quanto sono bravo quanto cazzo sono bravo di lol e è carino è 8 bit quindi potrei fare la collana insomma si volevi fare questo qui è troppo bello lo volevo tenere però vabbè sarà durissimo darlo io quindi capitano timo vado avanti io vabbè ok io sono fissata il secondo il secondo tra cui devo scegliere pikachu questo è un pikachu che cammina si vede pure perché è sempre 8 bit pikachu ok quindi questo è pikachu e ricordo che il primo lo può scegliere mo qui ci metto un anellino in maniera che voi decidete cosa farne comunque così non vedo anche perché si vedono tanto pure quindi allora ve li faccio vedere insieme perché sono stupendi pure insieme eccoli quanto sono bravo dovrebbero dare una medaglia quindi questo è il primo contest che farò e comunque le regole le trovate anche sotto al video dopo di che quando vi arriverà fatevi una foto insieme a questo cosino qui così vedo che l'avete ricevuto e fuori tuona io sono qui dentro a fare il contest ma in realtà mi sto cagando sotto perché ci sono i tuoni che sembra che stanno devastando tutto il mondo ecco un altro sembra che c'è la bucarisse di fuori quindi tra un po' vediamo di zoom e io sto in canottiera perché io furba esco di casa che c'è il sole 30 gradi uccellini cantano fuori se muore de caldo c'è gente che sta più al sole dico vabbè usciamo in canottiera perché se muore de caldo esco il temporale i fulmini non c'ho nemmeno l'ombrello quindi non so neanche come tornerò a casa però vabbè penso farò questo video finché smette di fiori quindi grazie a tutti comunque per l'iscrizione quindi anche chi già iscritto può partecipare basta che commenta sotto e condividi il video il video potete condividere su facebook o anche su instagram perché io anche instagram vabbè tanto c'è scritto nella mia pagina di youtube l'instagram e comunque ho anche facebook quindi troverò i vostri nomi e controllerò se lo condividete quanto sono adorabile anche su gmail va bene comunque bene che dirvi ragazzi sono quattro minuti di video adesso dunque 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 fuori piove io non so più che cazzo dire allora vediamo un po' tra un po' farò un altro video che sarà un horror ah cosa importante se devo dire quando ci sarà l'estrazione c'è il 6 giugno quindi il prossimo sabato quindi vedete un po' fino al prossimo sabato per fare sta cosa importante perché l'estrazione vorrei farla in diretta con i bigliettini così vedete che non è mai e quindi sarà più vera che mai però l'orario dell'estrazione poi la farò sapere in un altro vlog perché la devo ancora decidere perché facendo l'università tutti esami quindi devo scegliere l'orario a cui potrò stare effettivamente online eh guarda che figli soffi lì ho la penna del potere quindi ragazzi condividete iscrivetevi mettete like fate come volete commentate mi raccomando sotto il premio che volete perché nel caso foste i primi i primi potete sceglierlo quindi vi darò quello che c'è scritto qua sotto ovviamente tranquillo lo spedisco in tutta Italia gratis eh gratis 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 quindi... quindi ciao e ci vediamo al prossimo video bella e rilano questo è tutto posso chiudere? io sto... diamo